La Fed ha veramente fatto paura ai mercati in questo primo inizio del 2022. La domanda è lo Standard & Poor's 500 può quindi tornare a scendere? Tutti i mercati azionari mondiali potrebbero tornare a scendere dopo la piccola quiete che c'è stata alla fine della settimana scorsa? Buongiorno miei carissimi amici di investire in borsa a caccia di dividendi. Oggi analizzeremo un pochino la situazione attuale in maniera molto approfondita. Spero che potete apprezzare questo video perché chiaramente il punto di domanda è veramente importante. Nel senso che molti investitori si domandano se il calo può continuare oppure se forse siamo usciti dal periodo peggiore dopo solo un mese alla fine di volatilità elevata. Perché ce lo chiediamo? Ovviamente ognuno avrà le sue valutazioni. Per quanto mi riguarda la domanda me la sto facendo perché con la liquidità che ho accumulato nell'ultima parte del 2021 quando i mercati hanno tirato come dei matti mi sto chiedendo se è momento veramente di andarla a utilizzare tutte le liquidità oppure se potrebbero esserci dei cali ulteriori e quindi continuare con il mio piccolo piano di acquisto mensile. Per il video di oggi utilizziamo un bellissimo post dell'amico Renegade Insider Finanza un profilo Instagram che vi consiglio di andare a seguire e appunto cerca di fare la disamina. Che cosa sta succedendo? Negli ultimi due settimane i mercati occidentali sono stati caratterizzati da ribassi importanti. Sono spinti soprattutto dal settore tecnologico con il Nasdaq che ha perso più del 10% dei massimi. A spingerli a ribasso è stata soprattutto la pubblicazione dei verbali del meeting Fed di dicembre dove sono emerse varie indicazioni negative tra cui un possibile aumento almeno triplo dei tassi del 2022 un approccio più falco nelle comunicazioni al mercato e soprattutto l'idea di cominciare a ridurre il bilancio Fed e potrebbe essere proprio questo a impattare maggiormente il sentiment dei mercati e andiamo a scoprire il perché. Ma prima mi raccomando non dimenticate un like al video e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale Investire in Borsa Caccia di Dividendi per non perdere i prossimi video. Il tappering, ormai parola che molti di voi avranno incominciato a masticare la riduzione del bilancio Fed ha implicazioni ben diverse e più impattanti del tappering o dell'aumento dei tassi sui rendimenti delle obbligazioni americane. Lo andiamo a vedere nelle prossime schermate. Come è rimarcato più volte, tanto più aumentano i rendimenti dei titoli di Stato americani, ovvero di Treasury, e tanto più i tassi di sconto aumentano, chiaramente comprimendo il valore attuale delle azioni. Quanto al tappering, esso è una mera riduzione degli acquisti sul mercato che dai 120 miliardi mensili si andrà progressivamente a esaurire a ritmo di 30 miliardi in meno al mese. Il tappering dunque implica comunque un aumento del bilancio della Fed perché gli acquisti, seppur in rallentamento, continueranno ad ammassarsi sull'attivo della Banca Centrale. Questo è da dire. Quindi non vuol dire che immediatamente. La Fed ridurrà il bilancio, ma semplicemente continuerà con gli acquisti, ma a un ritmo inferiore. Anche alla fine del tappering, man mano che i titoli di Stato comprati dalla Fed andranno in scadenza, la Fed stessa li sostituirà comprando nuovi bond per pari a montare, il cosiddetto rollover, alimentando, seppur in maniera meno marcata, la domanda di obbligazioni americane. L'aumento dei tassi ha implicazioni certamente più marcate in quanto rende più costoso raccogliere denaro in prestito e questo ha un effetto disincentivante sua sulla capacità di spesa dei consumatori, cosa che quindi rallenta l'inflazione, ma anche sugli investitori che ad esempio useranno meno la leva in borsa. Ma anche in questo caso, con la Fed che detiene un terzo dei treasori e degli MBS, ovvero dei mutui, presenti sul mercato, l'effetto dell'aumento dei rendimenti sarà comunque abbastanza contenuto. La riduzione del bilancio, invece, è la pratica più impattante in assoluto sull'yield, ovvero sui rendimenti dei treasori, perché una volta che i bond acquistati dalla Fed andranno a scadenza, allora sì che a quel punto il governo americano ripagherà il debito alla Fed, la quale metterà quel denaro a riserva per poi cancellarla, così facendo toglierà definitivamente liquidità dal mercato. Quindi quando ci sarà la vera riduzione del bilancio, la Fed smetterà di fare il rollover di cui abbiamo parlato in precedenza. In questo modo la Fed non potrà più supportare il governo nell'acquisto dei titoli di Stato, portando a maggiore volatilità durante le aste, a una domanda molto minore e chiaramente spingendo i tassi obbligazionari al rialzo, aumento aggravato da un debito americano sempre in forte aumento a causa dell'esplosione della spesa pubblica rispetto alle entrate. Secondo Ironside Macroeconomics, pensate che un decennale al 2,3% implicherà un ribasso dello standard S&P 500 del 10-12% circa. A riprova di ciò, l'ultima volta che la Fed ha ridotto il suo bilancio tra fine 2017 e 2018, il Treasury è arrivato al 3%, dal precedente 2,3%, quindi con un aumento dello 0,7%. E le cose non sono andate bene per i mercati, con lo standard S&P 500 che nel 2018 ha perso un 7%, ma comunque con un minimo del 16% durante l'anno, ovvero con una perdita massima del 16% dai massimi precedenti. Oltretutto l'impatto della riduzione del bilancio Fed si rifletterà anche sull'aumento del costo del debito, ulteriore elemento alla base del tasso di sconto per calcolare il valore di una società. Come è nota BMOU, l'enorme quantitative easing realizzato in questi due anni ha spinto prima gli investitori a buttarsi sulle azioni in cerca di rendimenti, visto che chiaramente le obbligazioni non davano quasi nulla. E una volta fatto ciò, li ha spinti fuori dalla curva del credito, comprando così tanti bond da appiattire alla differenza di interessi tra società forti finanziariamente, ad esempio le value, e società deboli, come le growth. Cosa succederà ora che questo trend si inverte? Insomma, la riduzione del bilancio Fed probabilmente riacutizzerà le vecchie distinzioni tra buone e cattive società, premiando quelle con free cash flow importanti e penalizzando quelle che non ne hanno. Andiamo a vedere un pochino una panoramica sul mercato. Negli ultimi tre mesi, cosa è successo? È successo che lo Standard & Poor's 500, lo vediamo nella linea blu, ha perso un 4,29% negli ultimi tre mesi. In realtà, dai massimi, ha perso quasi il 10%. Gli Nasdaq, invece, è andato molto peggio, con un meno 12%, ma dai massimi, in questo caso, siamo lontani, circa un 15% abbondanti. Facciamo anche un esempio su alcune azioni. Ad esempio, Tattoo Chef, negli ultimi tre mesi, ha perso il 35%. Palantir ha perso quasi il 51%. Invece, spostiamoci su un paio di aziende di alta qualità, dopo aver visto questi due growth, che hanno sofferto parecchio, proprio per via dei loro bilanci abbastanza malandati. Andando su due azioni value, invece, dai bilanci solidissimi, possiamo vedere come nei tre mesi, in realtà, siamo davanti a due azioni che hanno addirittura guadagnato. Pepsi, tanto per dire, ha guadagnato addirittura un 6,1% ed è attualmente vicinissima ai massimi degli ultimi tre mesi. Verizon ha guadagnato uno 0,63% e anche in questo caso siamo vicini ai massimi degli ultimi tre mesi. Si tratta di due azioni che a me piacciono tantissimo. Verizon, tra l'altro, è anche nel mio portafoglio. Ha un dividendo del 4,84%. Pepsi ha un dividendo del 2,5%. Stiamo parlando, insomma, di due colossi, due azioni value. Due azioni che probabilmente non soffriranno più di tanto nei prossimi anni, nonostante abbiano comunque un bel debito sul gruppone. Ma quando i bilanci sono in ordine, allora, a quel punto, possiamo dire che la qualità, prima o poi, si rifletterà anche sul prezzo di mercato delle azioni. Chiaramente, ho fatto due esempi in positivo, due esempi in negativo. Non si tratta di consigli degli acquisti, consigli delle vendite, ma semplicemente di due constatazioni, osservando i dati che rispecchiano il mercato attuale. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, mettete il like e iscrivetevi nei commenti quello che pensate sull'attuale situazione di mercato. Lo Standard & Poor's sarà destinato a perdere ancora terreno. I mercati azionari subiranno ulteriori ribassi oppure con gennaio abbiamo chiuso la stagione dei cali. A presto, da Lorenzo, e ciao!